Ho pensato a come sono diventato scrittore, come è successo che io all'improvviso ho detto sono uno scrittore e sono riandato indietro nella mia vita e mi sono ricordato di quando una volta, questo l'ho scritto quindi qualcuno di voi lo sa già, di quando ritornavo da scuola per andare a casa e attraversavo la villa comunale di Napoli e all'improvviso da un albero un canarino volò sulla mia spalla. In quel momento il mio cuore mi prese a battere per l'emozione e io dissi il canarino sentirà il battito del cuore, la mia emozione e volerà via e infatti il canarino lo sentì e volò via. Quando tornai a casa voglio raccontare questo fatto a mia madre, ero sconvolto da questa improvvisata che mi aveva fatto il canarino e allora dissi, mamma un canarino si è posato sulla mia spalla e mentre lo dicevo mi accorsi che non avevo detto niente di quel batticuore e di quell'emozione che in quel momento era la cosa principale che dovevo dire e cominciai a pensare, ma come si fa a trasmettere con le parole un'emozione, come si fa a trasmettere con le parole il battito del mio cuore e da allora ci sto pensando ancora. Ci è riuscito, ci è riuscito!